Siamo davvero costernati perché ancora una volta le piscine al chiuso non possono aprire le loro attività, tra l'altro studi diffusi ormai conosciuti esprimono come diciamo il cloro sia appunto una sostanza che impedisca la diffusione del covid e quindi anche le norme di igiene delle piscine al chiuso potrebbero garantire comunque l'esecuzione di uno sport in tutta tranquillità. Invece rimangono solo aperte da metà maggio gli impianti all'aperto tenendo conto che per esempio per Genova ma diciamo per tutto il nord Italia le attività all'aperto hanno sempre iniziato a metà giugno. Questa cecità che in qualche modo continua e non presta attenzione a questo mondo ci preoccupa davvero e speriamo di portare diciamo velocemente questo tema in consiglio comunale anche perché molti impianti inattatori appunto a carico dei comuni di Genova sono dati in gestione e diciamo che i gestori sono davvero in ginocchio ce lo stanno dicendo da mesi hanno potuto beneficiare poco degli aiuti da parte dello Stato ed è chiaro che la continua chiusura davvero mette a duro rischio tutta la prosecuzione delle attività ed il mantenimento in vita di questi impianti che se non ci fossero i gestori francamente il comune non sarebbe in grado di tenere aperti quindi bisogna tutti insieme tutte le forze politiche fare pressione a livello nazionale perché ci sia attenzione rispetto agli impianti inattatori al chiuso e ci sia una apertura verso invece situazioni diverse da quelle che oggi si prospettano. Quale sarà quindi il suo prossimo impegno durante la seduta comunale? Cercheremo di portare in aula degli impegni da parte del consiglio comunale ma soprattutto rispetto alla giunta e al sindaco affinché si facciano parte attiva a livello nazionale perché davvero questo approccio cambi perché la questione è che certo si fa prima chiudere che non ad affrontare le cose ma ormai sono troppi i mesi in cui invece l'approfondimento poi che ha seguito ci dimostra che si potrebbero fare le cose in maniera diversa. Oggi credo che gli impianti inattatori non ce la facciano davvero più, i loro gestori, il loro grido d'allarme è forte, io spero che se tutti faremo presente a livello nazionale questo problema, questo problema in qualche modo trovi soluzioni diverse.